Non c'è pace per il bacino sciistico di Prati e Itivo? A seguito dell'ispezione degli impianti della cabinovia fatti ieri sono stati riscontrati danneggiamenti ai cavi elettrici del circuito di sicurezza. Una situazione che non esclude la matrice dolosa che sembrerebbe suffragata da alcune circostanze, anche se non c'è ancora nulla di certo. Una situazione su cui però il liquidatore della Gran Sasso Terramano, Gabriele Di Natale, e il nuovo gestore Marco Finori hanno denunciato l'accaduto attraverso un esposto presentato in procura. Un segnale bruttissimo ma che conferma, ecco io dico, causa e effetti la strategia di quello che si è determinato in questi anni a Prati di Itivo. A sto punto quell'idea che ho io, che c'era una missione di fermare, di far pensare che su quella stazione non sia funzionante e si può andare altrove, è una missione che c'era in atto. In più un'altra missione che adesso non vi dico che era in atto ma a breve racconterò una serie vera. Intanto si sta lavorando, da ieri hanno fatto i rilievi su tutto l'impianto, ecco stanno uscendo che i punti che erano stati danneggiate sono altri. Faremo una relazione da tagliata con i video e con le foto di quello che è stato trovato in questi giorni. Intanto stanno già riparando tutto l'impianto per poter far sì che se domani il tempo lo permette, ecco tutti gli impianti sono aperti. Ecco io sono dispiaciuto perché se qui qualcuno pensa che sia un problema rilanciare la stazione sciistica di Prati di Itivo o di Pratosello, lo dico direttamente, noi andiamo avanti perché l'obiettivo non è quello di riaprire la stazione della provincia di Terra, ma nazionalizzare quel posto, far sì che le persone tornino a scoprire uno dei posti più belli del centro Italia e dell'Italia. Una situazione delicata visto che è considerato che comunque è stato presentato un esposto in procura. Sì, noi stiamo aspettando la relazione integrale e poi che consegneremo ai carabinieri per far capire che cosa c'è in atto. Intanto metteremo su degli impianti di videosorveglianza appunto per monitorare e per scovare chi si diverte a fare dei piccoli dispetti, dico io, non a noi ma ad un'intera vallata.